Il presidente della regione, Vito De Filippo, ha invitato i 131 sindaci della Basilicata a intitolare una via, un viale o una piazza di ogni comune all'unità d'Italia. Per il presidente De Filippo sarebbe auspicabile che ciascuna amministrazione potesse decidere entro il 17 marzo, data fissata per celebrare i 150 anni dello Stato italiano. La proposta avanzata dal presidente De Filippo non è l'unica nel quadro degli impulsi che il governatore Lucano sta promuovendo per onorare i 150 anni d'Italia. Si ricorda infatti che il presidente si è fatto promotore di una proposta di legge costituzionale che riconosce l'inno di Mameli quale inofficiale della Repubblica Italiana.